Grazie a tutti. Hai sentito parlare sui media, locali e ci interessa saperne di più perché quella che per Giorgio è stata inizialmente una vacanza si è trasformata in Kenya in qualcosa di più profondo e più importante. Vorrei capire come tutto è nato, Giorgio. Il tutto nasce da una passione per gli animali che mi accompagna fin da piccolo. Già da bambino io volevo cercare di salvare l'uccellino che cadeva dagli alberi e così man mano che sono cresciuto mi è rimasta questa idea e mi sono lavorato in veterinaria per poter aiutare gli animali. Negli ultimi anni si è assistito a livello mondiale a una distruzione massiva degli abitati degli animali e delle popolazioni dei nostri amici. In particolare negli ultimi 5-6 anni per chi conosce un po' l'Africa sa che c'è in atto una distruzione totale per quanto riguarda l'ecosistema e le popolazioni di elefanti e di rinoceronte in particolare. Questo è dovuto al fatto che animali che un tempo erano l'emblema di questi stati, che erano quasi venerati anche alle popolazioni locali, quindi venivano uccisi in numero assai ridotto. Si parla ad esempio di un 5-10 rinoceronti all'anno in tutto il mondo, a causa di un mercato illegale che ha visto la crescita del valore al chilo dell'avorio e del corno di rinoceronte arrivare a prezzi astronomici addirittura supera il costo dell'oro o del platino. Si è visto l'interesse delle grandi organizzazioni criminali internazionali ma anche del terrorismo a tuffarsi in questo mercato e quindi si è avuto un innalzamento incredibile del numero di questi splendini animali che vengono bracconati, che vengono uccisi fra l'altro in maniera spietata. E così, visto che ormai le notizie del mondo si vedono anche spesso su Facebook, magari anche con dei video non tanto simpatici per chi ama gli animali, vedendo quello che succedeva a questi animali mi sono detto che anche io non devo fare qualcosa. E così, visto che da sempre in realtà unisco spesso il periodo di vacanza a periodi in centri di recupero nel mondo dove posso aiutare, così è successo sia in un centro di recupero in Italia per i rapaci, sia in Spagna sia in un centro di recupero per papagalli e scimmie in Costa Rica. E negli ultimi anni anche ho dato una mano a un centro di recupero di elefanti di Nairobi. E questo mi ha portato a conoscere molto da vicino la situazione oggi del bracconaggio verso questi animali. E mi ha portato anche a conoscere quelli che sono i paladini di questa lotta al bracconaggio, che sono i ranger. Ranger che hanno visto negli ultimi anni parecchie morti, ci hanno subito parecchie, sono degli eroi, parecchi di loro sono morti in combattimento non solo contro dei singoli bracconieri, ma purtroppo contro delle milizie terroristiche che sono armate con le migliori armi da disposizione del mercato. Quindi questi difensori della natura, con pochissimi mezzi a disposizione con armi, quando le hanno molto antiquate e con le cartucce ridotte a un pugno, quando riescono a pattugliare questi parchi che sono immensi in Africa, difficili da proteggere per la grandezza e per l'estensione del territorio, si trovano ad affrontare dei terroristi che magari utilizzano anche elicotteri, visori notturni, armi a ripetizione e se non armi pesanti. Quindi è una lotta assolutamente impari. Noi viviamo le nostre vite qua con i nostri problemi, i nostri comfort e non ci immaginiamo che a una decina di ore di distanza si muore, non solo un elefante, un rinoceronte o un leone, ma anche un essere umano che fa il proprio lavoro con una divisa, muore semplicemente per difendere un parco, per difendere un'entrata economica di un povero paese. Non ci immaginiamo il cataclisma, la catastrofe ambientale che c'è in questo momento in questi paesi, eppure sono veramente a poche ore da qua. Ultimamente è agli occhi di tutti che ci accorgiamo che qualcosa sta succedendo, perché quando un intero continente è messo in ginocchio dal terrorismo, dalla guerriglia, che provoca l'instabilità dei governi, che provoca il crollo dell'economia, che provoca il crollo del turismo come è avvenuto ad esempio in Kenya, dove la fonte principale economica è il turismo, dove vanta dei parchi meravigliosi e un sistema di tutela degli animali che è unico anche rispetto ai vicini paesi africani, ci troviamo di fronte a un crollo delle presenze turistiche massiccio, perché ogni anno in Kenya vengono fatti uno o due attentati terroristici. Il crollo dell'economia di questi paesi provoca un'instabilità, provoca guerra civile e poi è ovvio che folle di migliaia di disperati, come purtroppo anche noi qui nella nostra Italia, nel nostro comfort, ci vediamo arrivare alla fine dei profughi, dei rifugiati, perché c'è un continente alla deriva. Il tutto parte da complessi problemi socio-economici, ma è alimentato proprio da questo commercio dell'avorio e del corno di rinoceronte, che rappresenta ormai la terza entrata economica a livello mondiale delle organizzazioni criminali, quindi muove degli interessi economici incredibili. I numeri di questa strage sono impressionanti, vengono uccisi ogni giorno 100 elefanti, praticamente uno ogni 15 minuti. Ci sono tante campagne che periodicamente ci vengono proposte come petizioni, come marce, proprio per diffondere questi numeri, diffondere questa strage che è impressionante. Con 35.000 elefanti all'anno uccisi e una popolazione di 500.000 animali, in 5-10 anni non ci saranno più elefanti allo stato libero. Quindi, al di là che c'è già un immediato crollo di turismo in questi paesi, questi parchi indifendibili sono alla deriva e questi animali non potranno più vivere lo stato libero perché nel momento in cui spariscono le matriarche, che sono le conservatrici della memoria genetica di questi mandri e di elefanti, perché ovviamente vengono uccisi, sono già praticamente spariti in tutta l'Africa quelle che sono chiamate le grandi zanne, ovvero gli elefanti più anziani, quelli che hanno le zanne più grandi. La sparizione di questi animali comporta che in un periodo di siccità, ad esempio, una mandria di elefanti non ha più la memoria genetica di ritrovare le rotte migratorie per trovare le pozze d'acqua. Quindi, se numericamente in una decina di anni gli elefanti saranno estinti, in realtà si presume che la popolazione naturale, selvatica di elefanti scomparirà molto prima perché tutte le dinamiche della popolazione degli elefanti vengono sconvolte e come ormai tanti scienziati ci hanno insegnato, ogni elemento in natura è legato a tutti gli altri. È un ecosistema e quando scompare un pezzo di questo puzzle ne risente tutto l'ecosistema. Pensate che in Africa, spesso, quando si cammina, si vedono, si ammirano gli alberi, si ammirano queste bellissime acacce e spesso sono in linea. E così un ranger un giorno mi ha spiegato che sì, sono in linea perché nascono dalle feci degli elefanti. Quindi la sparizione degli elefanti, in un equilibrio, come è un ecosistema, dove ogni specie è interdipendente dall'altra, comporta l'esubero magari per qualche anno di piante che vengono rovinate in parte con la dieta degli elefanti. Dopodiché si assiste al crollo di altre piante. Quindi la diminuzione del numero di questi alberi porta ovviamente poi all'abbassamento della popolazione di animali che si cibano, ad esempio, del frutto di questi alberi. Quindi è tutto interconnesso. E l'uomo al momento attuale sta distruggendo una delle meraviglie della natura semplicemente per avidità. Quindi non perché deve cibarsi, non perché deve per sopravvivere uccidere un animale pericoloso, ma in un continente dove a tutt'oggi si muore di fame, vengono uccisi con armi inadatte, quindi mitragliatori con un pallotto che ha un calibro molto piccolo e quindi sottopongono un elefante a un supplizio quando viene colpito e non è la morte istantanea che ad esempio ci potrebbe essere con un calibro di un fucile nato apposta per la caccia agli elefanti. Vengono uccisi col veleno, vengono uccisi con dei lacci e delle trappole terribili che portano a morte l'elefante dopo vari giorni di agonia. Tutto questo viene fatto semplicemente perché c'è un aumento nella domanda dell'avorio, specialmente nei paesi asiatici, quali la Cina. questo aumento incredibile della domanda di questo oggetto che è uno status symbol, di questo oggetto che viene poi lavorato da artigiani appositi in meravigliose creazioni di miniatura per poter sfoggiare uno di questi oggetti in una casa, ecco che si distrugge un continente. e bisogna dire che è ancora più ridicola la questione dell'uccisione dei rinoceronti. È più ridicola e più drammatica, è più ridicola perché non è nemmeno un bene di lusso, uno status symbol come il lavorio, che è utilizzato dall'alba della storia umana. Il lavorio veniva citato da Omero, veniva utilizzato dai greci e dai romani, anche come merce di scambio, veniva utilizzato come oggetto di lusso in tanti imperi antichi, viene utilizzato per tanti anni, è stato utilizzato anche per i tasti dei pianoforti, viene utilizzato per i sigilli imperiali giapponesi, a tanti per le bacchette in questi paesi viene sempre ancora utilizzato, eppure è stato sostituito da sostanze plastiche che praticamente sono identiche e indistinguibili. Quindi è veramente una vergogna che al giorno d'oggi c'è ancora qualche industria di pianoforti che utilizza l'avorio. Parlando invece del corno di rinoceronte, non è quindi il corno di rinoceronte costituito di una sostanza che ha le caratteristiche del lavoro e che quindi può essere anche utilizzato dall'artigianato o per alcuni prodotti. È semplicemente un'unione di peli e di capelli, ovvero il corno di rinoceronte è costituito dalla cheratina, quindi è un fascio di peli uniti a formare un mezzo di difesa più duro. Quindi è stato analizzato ampiamente dalla scienza, non ha nessuna proprietà curativa, né tantomeno proprietà afrodisiache, è semplicemente utile a rinoceronte e dannoso per l'essere umano. Eppure viene utilizzato dai nuovi ricchi dei paesi asiatici come afrodisiaco, come cura per i tumori, come cura per ogni male. E questo perché purtroppo anche nella medicina tradizionale cinese vengono utilizzate spesso parti di animale, come la bile degli orsi della luna, come le ossa delle tigri, che quindi questo genera poi tutta una marea di problemi, di sofferenza per gli animali perché vengono allevate in condizioni orribili. Purtroppo queste credenze, perché la scienza non le ha mai validate, sono praticate da milioni e milioni di persone e quindi l'enorme richiesta di questi prodotti provoca una corsa sfrenata all'accaparamento di questa risorsa. Fino a 5-6 anni fa venivano uccisi in tutto il mondo una decina di rinoceronti. L'anno scorso sono stati uccisi nel solo Sudafrica più di 1000 rinoceronti. Questo vi spiega le dimensioni della catastrofe planetare per questi animali. Di rinoceronte ne rimangono meno di 25.000, abbiamo assistito alla scomparsa di alcune specie negli ultimi 5 anni. Il rinoceronte nero è gravemente compromesso, ne rimangono veramente poche migliaia. E poco meglio la popolazione di rinoceronte bianco. Nonostante il grosso di questi animali sia nei parchi sudafricani, per la cui protezione si è mosso perfino l'esercito del Sudafrica, non si riesce purtroppo a rallentare il ritmo di queste uccisioni. Quindi sembra veramente una guerra persa. Però non bisogna rendersi. E quindi ho deciso che anch'io dovevo fare qualcosa, perché non ne potevo sinceramente più di guardare questi numeri. Ho cominciato anche a fare alcune conferenze nella mia città. Dopodiché nei miei viaggi in Africa ho conosciuto una persona importante nella difesa degli animali del Kenya, che è Rabia Awa. È cresciuta viaggiando molto col padre per lavoro. Fin da piccola anche lei si prendeva cura di tutti gli animali che trovava. E questa sua grande passione l'ha portata a collaborare spesso con i ranger. Tanto che grazie ai suoi sforzi, agli aiuti che ha dato, e al fatto che personalmente da anni si dedicava a pattugliare, rischiando la propria vita, le zone del bracconaggio, attenzionate al bracconaggio, ecco che il governo del Kenya gli ha dato un'onore efficienza, ovvero la insignita del titolo di guardiano onorario del Kenya WS. Diciamo come il corrispettivo delle nostre guerre forestali, ovvero il corpo è un capo, adesso diciamo che la qualifica di capo dei ranger del Kenya, del servizio nazionale dei guardi a parco. Quindi onorario warden of the Kenyan WS. Con questa qualifica può compiere anche arresti nel suo paese, e quindi quando collabora con i ranger può attivamente dare una mano contro il bracconaggio. Quindi cosa ha fatto negli anni? Ha creato un'associazione di ranger, che si chiama Walk with Rangers, che praticamente ogni anno organizza un trekking in Kenya, che attraversa e costeggia i vari parchi naturali di questo meraviglioso paese. A questo trekking partecipano persone di tutto il mondo, e possono, al di là di ammirare le bellezze del paese, con la grande sicurezza di essere circondati dai ranger, quindi dai protettori della natura, anche la possibilità per qualche giorno di calarsi nei panni di un ranger, e quindi di dare veramente una mano nella difesa dell'ambiente e degli animali. E così, io l'ho conosciuta proprio tramite internet, era persona estremamente disponibile, e quindi quando sono arrivato in Kenya l'ho incontrata, abbiamo visto che avevamo le stesse idee sulla protezione degli animali, e abbiamo deciso di collaborare. E così, quest'anno, ho partecipato anch'io portando degli amici dall'Italia a questo trekking, è stata un'esperienza bellissima, una vacanza che proporrei a tutti. c'erano persone da ogni angolo del mondo, e mi ha fatto molto piacere, visto che si parla purtroppo spesso di disastri ambientali provocati dalla Cina, che c'erano cinque attivisti cinesi, la gran parte da Pechino, e quindi anche loro, assieme a noi, hanno contribuito a dare una mano per fermare i bracconieri. C'erano persone dall'Europa, dagli Stati Uniti, dall'Africa, molti dal Sudafrica, tutti assieme, abbiamo condiviso delle esperienze uniche, delle esperienze molto forti. Il trekking è così strutturato che si parte in genere da Nairobi, e si fanno addirittura 300 km a piedi, nell'arco di una dozzina di giorni. Questi 300 km vengono effettuati a volte come un trekking, nella maggior parte dei giorni, quindi si attraversano a piedi queste zone meravigliose, incantevoli, collinari e di savana del Kenya, e si ammirano degli splendidi animali nello stato naturale libero, ed è una cosa unica, perché generalmente l'Africa si visita con dei safari organizzati praticamente in jeep, perché nei parchi non è possibile girare da soli a piedi. Questo trekking con i range permette questo contatto veramente forte con la natura. Solitamente un viaggiatore europeo viene quasi travolto dai colori, dagli odori, dai rumori che ci sono in Africa, sono fortissimi. L'esperienza che abbiamo quando mettiamo piede nel suolo africano è veramente unica. Io penso che sia anche così forte perché in Africa ha avuto origine l'umanità, quindi noi attavicamente siamo uniti a questa terra. Ed è vero che si parla solo per l'Africa del mal d'Africa, quindi ha un fascino che è unico. Gli animali, la natura, l'ambiente, ma anche la gente. Ci sono un quacervo di popolazioni, di lingue che è incredibile. Ed è stato anche lì molto bello vedere che ad esempio i ranger sono volutamente arruolati uno per tribù. Ogni gruppo ha un... ogni gruppo di ranger, anche fra i ranger privati, ci sono spesso queste mescolanze dove vengono preferite varie etnie in maniera che i ranger hanno la possibilità di capire meglio le popolazioni locali, bisogno delle popolazioni locali. Perché se è vero che in questo momento il problema maggiore in Africa è questo braconaggio dovuto alle grandi organizzazioni criminali internazionali, è anche vero che da sempre c'è una forte pressione demografica. C'è una grandissima crescita demografica in questi paesi che va ovviamente a comprimere, a stringere l'habitat di tutti gli animali africani. Quindi questi animali già vedono restringere il loro numero perché le loro risorse, i loro habitat vengono diminuiti ogni anno. In più se si aggiunge una caccia spietata organizzata a questo livello si capisce perché sono molto a rischio. Infatti sono andato anche perché mi sono detto se da qui a cinque anni non potrò più ammirare gli elefanti rinoceronti devo darmi una mossa. Ed è così che in questi anni una volta all'anno vado a dare una mano anch'io a questi paladini della natura. Il trekking in questo ambiente non l'ho trovato assolutamente faticoso nonostante il caldo, nonostante gli insetti perché si ha uno spirito veramente forte di comunanza con queste persone che sono animate dalla voglia di aiutare questi animali e io sinceramente si prende tanta energia da questi ranger, da queste persone semplici che con impegno, un impegno sovrumano fanno un lavoro che è uno dei più rischiosi in questo momento. Queste giornate di trekking per noi erano veramente una vacanza felice e poi c'erano delle giornate in particolari zone dove ci dedicavamo al pattugliamento assieme ai ranger. Il lavoro del ranger funziona così che la maggior parte non sono armati perché per contrastare il bracconaggio delle popolazioni locali non lo si contrasta con le armi. Questi ranger hanno a loro disposizione un GPS una matita e un blocnotte praticamente tutte le varie patruglie di ranger sono in comunicazione con le radio a volte c'è anche l'ausilio di qualche elicottero o come abbiamo visto noi un autogiro ovvero quegli elicotteri ultraleggeri che perlustrano queste sconfinate distese naturali segnalano ai ranger a terra i fenomeni di bracconaggio o di taglio abusivo degli alberi ed ecco che con le loro jeep o a piedi i ranger partono verso queste zone alcune giornate del trekking sono quindi riservate al pattugliamento all'attività fianco a fianco con i ranger e sono state delle giornate ricche di esperienze incredibili ad esempio siamo stati avvisati che alcune unità hanno trovato delle zone attenzionate dal taglio illegale degli alberi in Africa le case non hanno l'elettricità non hanno il gas la maggior parte delle case dei villaggi e quindi il grosso della popolazione e per cucinare utilizzano il carbone il carbone che in minima parte ha una provenienza legale da foreste che vengono piantate la maggior parte è un carbone che si distingue per essere di pezzatura più piccola che viene creato artigianalmente dai tagliatori abusivi di legname queste persone per sbarcare il lunario perché comunque si parla nella stragrande maggioranza di casi di poveri disperati tagliano tagliano gli alberi con l'accetta fanno a pezzi il legname e lo accatastano interponendo a strati di legna strati di paglia il tutto viene ricoperto dalla terra e quindi creano delle piccole montagnole che sono praticamente dei forni dove avviene una volta accesa la paglia la combustione di questa legna in assenza quasi di ossigeno la combustione con poco ossigeno praticamente è la forma per creare il carbone quindi noi ci siamo trovati in queste zone a effettuare azioni di sabotaggio di questo lavoro quindi accompagnati dai ranger ci dedicavamo a distruggere i covi che trovavamo gli attrezzi e anche queste cataste di legna che anche se ci dava un po' fastidio bruciare tutto questo legname è comunque l'unica maniera che hanno per sabotare questo lavoro poi abbiamo cominciato a incontrare delle persone dei sospetti praticamente noi non ci accorgiavamo di molto ma i ranger che hanno un udito oltre gli altri sensi molto adatto al loro mestiere da lontanissimo sentivano rumori sospetti come ad esempio il battere di un'ascia e quindi partivano come razzi circondavano questi soggetti sempre disarmati e generalmente queste persone si lasciano arrestare nonostante abbiano ogni africano che gira nella savana come minimo il panga ovvero questa specie di coltello spada alla cintura e le persone che fermavamo avevano ovviamente anche che nasce alcuni sono stati quindi fermati interrogati non stavano compiendo delle azioni organizzate di disboscamento quindi si erano colpevoli solo di tagliare un alberello per la loro famiglia addirittura tre persone che abbiamo fermato erano dei pastori che stavano sì rovinando un albero ma per prendere e avevano con sé un sacchetto di miele per poter curare la loro bambina quindi l'azione dei reggio non è semplicemente repressiva ma deve essere un'azione anche educativa di convivenza con le popolazioni locali queste persone fermate trattenute per mani circa un'ora interrogate vengono praticamente persuase a collaborare in maniera da poi tornare essere liberate e tornare alle loro pratiche quotidiane quindi quelli che non sono colpevoli di grossi reati vengono ovviamente dissuasi nella loro opera segnalati e in genere ci forniscono delle informazioni infatti man mano che fermavamo sospetti alla fine abbiamo cominciato anche a fermare delle persone che erano già state arrestate per disboscamento illegale e quindi alcune di queste pur di con la minaccia diciamo della galera ci hanno alla fine portato nei veri siti interessati dalla distruzione degli alberi quindi abbiamo potuto sia distruggere queste montagne attive dalle quali usciva il fumo per la produzione del carbone sia arrestare veramente chi era coinvolto massivamente in queste operazioni perché in realtà ovviamente la pressione demografica è un conto però le distruzioni massive dell'abita di solito vengono fatte da persone che non sono della zona ovvero vengono da fuori compiono una distruzione più grande del solito e portano via i materiali questo avviene anche per il bracconaggio degli elefanti generalmente ovvero il tutto viene mosso da grandi interessi economici e quindi ci sono delle bande che addirittura anche a piedi fanno centinaia di chilometri ma vengono anche da altri stati in genere il Kenya viene interessato da gruppe da bande a piedi che vengono anche dalla Somalia e che vanno fino all'altro confine del Kenya con la Tanzania dove ci sono dove eravamo noi dove ci sono i parchi dei bellissimi parchi dello Zavo a uccidere gli elefanti dopodiché a piedi si portano via per decine di chilometri le zanne abbiamo condiviso questi momenti abbiamo vissuto questa grande esperienza e ci siamo sentiti parte attiva della difesa dell'ambiente nell'attività contro la forestazione illegale e poi abbiamo continuato le nostre giornate di trekking devo dire che già dal primo giorno il nostro bellissimo trekking ammirando le meraviglie dell'Africa era interrotto dal ritrovamento delle carcasse di elefante le abbiamo trovate parecchie ogni volta è stato un grosso dolore e ci fermavamo davamo un rispettoso saluto a queste carcasse infatti c'è una bellissima tradizione che l'uomo ha mutuato dagli elefanti in Africa ovvero gli elefanti sono una delle poche specie animali forse l'unica ad effettuare il rito funebre ovvero gli elefanti per anni quando transitano nelle zone dove sono morti dei loro simili dove ci sono le loro spoglie quando le trovano con la proboscide muovono le ossa a lungo e compiono dei gesti come se riconoscessero i loro parenti e coprono le carcasse o le spoglie di questi animali con dei rami c'è molto da imparare dagli animali specie di animali così evoluti che hanno una sensibilità una vita sociale così sviluppata tra i ranger in particolare di etnia Samburu c'è questa bellissima tradizione che quando muore uno di loro la tribù lo saluta depositando un rametto sulla tomba e così anche noi anche i ranger tutti assieme compivamo questo ultimo saluto questo estremo omaggio agli elefanti depositando un rametto sulle loro carcasse e anche questa è stata un'esperienza molto toccante che ci fa capire come gli animali siano importanti per noi siano molto simili a noi come emozioni perché bisogna capire che se è vero che gli animali sono diversi dagli esseri umani li hanno le nostre stesse emozioni gli animali sentono il freddo sentono il caldo hanno paura hanno le emozioni hanno i legami familiari aiutano i loro simili aiutano addirittura animali di altre specie e fanno addirittura i riti funebri cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo ancora vedere nel mondo per capire che dobbiamo smettere di uccidere gli animali una delle esperienze più forti che abbiamo avuto è stata quella del 12 agosto giornata mondiale dell'elefante e ci eravamo preparati a una bellissima passeggiata dalle colline Taita Hills all'Echisima Hills in un ambiente bellissimo una savana spettacolare con dei colori travolgenti eravamo appena partiti quando ci arriva una segnalazione da un autogiro da questi piccoli elicotteri che era stata avvistata una carcassa di elefante con ancora una zanna e quindi è qualcosa di inusuale che ha fermato la nostra gita ha fermato questa giornata di trekking è una situazione dove non intervengono solo i ranger disarmati ma vengono chiamate le unità speciali del canyon WS cosa succede? la presenza di un delavorio sul terreno indica che i braconieri non sono lontani e per i braconieri degli elefanti che sono armati in genere fino ai denti è d'obbligo l'intervento delle squadre armate quindi il gruppo dei trackers internazionali si è fermato è tornato indietro in attesa di chiarimenti e io come persona che documenta i fatti sono salito sulle jeep dei ranger e assieme a loro a folle velocità ci siamo diretti nella zona di dove è stato ucciso questo elefante sopra di noi nel cielo ci guidava l'elicottero è una sensazione molto forte trovarsi in una jeep piena di persone armate che vanno verso un possibile conflitto a fuoco mi sembrava devo dire di essere un inviato di guerra quando siamo arrivati i rangers a Raggera si sono subito sparsi nella ricerca di un possibile contatto con i braconieri e una volta messa in sicurezza la zona abbiamo capito che l'elefante era stato ucciso da uno o due giorni e i braconieri quindi erano già scappati in realtà erano scappati il giorno prima a piedi e quindi ho visto come agiscono in una scena del crimine i ranger a me mi hanno subito detto tu stai sull'erba perché se no inquini la scena del crimine e loro come noi siamo forse abituati a vedere nei film western si sono messi a studiare le impronte sul terreno finché in mezzo al groviglio disegnano trovato le impronte che ritenevano delle ciabatte delle scarpe dei braconieri trovate quelle si sono divisi in due squadre una squadra è partita subito a piedi dietro le loro tracce i ranger riescono a correre per 30-40 km dietro i braconieri a piedi io ho provato per qualche centinaio di metri a starci dietro ma sono rimasto indischiato nelle onnipresente spine del bush africano loro hanno questa grandissima capacità non per niente spesso non vincono le maratone le maratone internazionali 30-40 km senza fermarsi con una piccola scorta d'acqua correndo dietro questi braconieri gli altri si sono messi a studiare ancora la carcassa hanno visto che hanno capito che i braconieri non erano i braconieri professionisti perché era stata tolta malamente una zanna l'altra era stata mezza segata ma non erano riusciti a toglierla e inoltre hanno trovato che la causa della morte dell'elefante era una spina era una freccia velenata quindi l'elefante si è trascinato per parecchie ore con dolori terrificanti e attorno c'erano tutte le impronte di questa sofferenza era morto presumibilmente la mattina del giorno prima e durante la notte i leoni erano venuti avevano compiuto il loro macabro pasto infatti l'animale era sventrato assistere a tutto il loro impegno tutta la loro professionalità è stato emozionante è stata una grande esperienza l'avvicinarci a questa carcassa il fettore che ci avvolge l'odore di questo povero animale il brusio di migliaia di mosche e di vermi che banchettano sulla carcassa è stata un'esperienza devastante e auguro che queste cose finiscano e quindi volevo ringraziare per tutto il loro lavoro sul campo i ranger in particolare i ranger dei Walgut Rangers Rabia Awa che li ha fondati che ha fondato anche la Africa Aulinzi Foundation che è appunto una fondazione per aiutare gli animali in difficoltà e proteggerli invito le persone ad avvicinarsi a questo mondo per proteggere gli animali invito le persone a fare questo entusiasmante trekking come forma di vacanza e come esperienza veramente può essere l'esperienza di una vita chi non può partecipare ovviamente può aiutare questi ranger con delle raccolte fondi o particolarmente ho fatto delle raccolte di materiali ho portato giù a questi ranger che non hanno nemmeno di che vestirsi ho portato anfibi ho portato vestiari da lavoro vecchie divise militari tutto materiale che qua in disuso in Africa hanno nuova vita quindi si può salvare un elefante anche semplicemente donando dei vestiti vecchi che avete in soffitta e non dimentichiamoci che non serve andare in Africa per aiutare a lenire la sofferenza dei nostri amici animali ma possiamo farlo anche da casa nostra stando attenti al mondo che ci circonda gli animali che ci circondano e sono io anche a ringraziare te Giorgio per questa testimonianza per le tue parole perché comunque sono importanti per averci raccontato l'esperienza di una vita spero che questo progetto diventi sempre più grande e grazie a te anche a quello che fai grazie io voglio ringraziare gli animalisti Friuli Venezia Giulia che con loro costante impegno portano alla luce tante situazioni di sofferenza animali animale e danno spazio anche a me per poter diffondere questo messaggio in aiuto degli animali africani grazie di cuore